Incontro i sindaci per sentire da loro le esigenze di semplificazione, quello che richiedono, però non siamo, giusto per chiarire, a prendere una lista della spesa così come perché ci vuole un'assunzione di responsabilità reciproca. Anche i sindaci devono rendersi conto che nel momento in cui si attivano procedure di semplificazione della ricostruzione, poi loro hanno delle irresponsabilità e a quelle responsabilità devono rispondere. Quindi oggi un altro incontro di scambio, quindi scambio di realtà, di disagi, di criticità, le questioni da superare. Alcune le abbiamo già viste nei giorni scorsi, parliamo degli uffici comunali, della difficoltà a operare nell'ordinario, addirittura la carenza dei segretari comunali, la difficoltà a fare a volte i bandi, le opere pubbliche, quindi capire dove sono gli intoppi e perché alcune opere pubbliche sono ferme. Insomma, questi sono i temi oggi in campo. Questo testo unico ricalcherebbe la proposta di legge sul sisma che è stata avanzata negli anni scorsi dai precedenti governi? Allora, è chiaro che partiamo dall'esperienza già fatta. Quindi noi abbiamo una serie di terremoti negli ultimi dieci anni che si sono succeduti, 2009, 2012, 2016. Ciascuno ha avuto dei modelli diversi, ciascuno ha avuto delle realtà diverse, degli impatti diversi. Quindi un testo unico non può essere una norma unica, ma deve essere una codificazione, cioè deve dire in funzione del territorio, della realtà territoriale, quali sono le misure che vengono messe in campo.